I positivi attuali a Sassano sono 19, stando ai dati forniti ieri dal Comune. Intanto, su disposizione del Sindaco Domenico Rubino, domani saranno effettuati tamponi molecolari agli alunni del plesso scolastico di Silla, che è stato interessato da casi di positività tra alunni e un operatore scolastico, e verranno effettuati da un laboratorio privato di analisi con fondi messi a disposizione dall'amministrazione comunale. I tamponi verranno fatti ai bambini delle classi prima, terza e quinta elementare. La decisione, fanno sapere dal Comune, scaturisce dal fatto che gli alunni delle classi seconda e quarta, dopo i casi di positività di diversi scolari, sono stati sottoposti ai tamponi molecolari da parte dell'ASL. Ci è sembrato quanto mai opportuno far effettuare a tutti gli alunni i tamponi per cercare di tenere sotto controllo la situazione, spiega il Sindaco. E comunque, non mi stancherò mai di ribadire, sottolinea sia l'importanza del rispetto di tutte le regole anticontagio, come l'uso della mascherina, sia dei vaccini. Solo così possiamo difenderci dal Covid. È dal 19 novembre che a Sassano sono sospese le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola primaria di primo grado e nei giorni successivi, anche dell'infanzia, del plesso scolastico della frazione di Silla. Oltre alla sospensione del servizio di riflessione scolastica di tutte le scuole locali di ogni ordine grado, provvedimenti presi proprio a seguito di alcuni casi di positività all'interno dell'Istituto.